e bene a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video oggi siamo tornati su prova a non ridere challenge allora vi lascio il link in descrizione della scorsa prova non ridere challenge che avevo detto arriviamo o a 3 o a 5 like e siamo arrivati a 7 ragazzi link in descrizione mi raccomando se non avete messo like andatelo a mettere e per questo video raggiungiamo i 5 like e porterò pro non ridere challenge impossible partiamo col video ragazzi ed eccoci ragazzi oggi tornati qui ebbene siamo tornati su aspettate che metto la luminosità al massimo ragazzi così io lì ho una luce dietro allo sfondo lasciate like se anche voi ti fate Juve commentate se ti fate altre squadre no facciamo così lasciate il like se ti fate Juve e condividete il video se ti fate altre squadre io direi di partire con il video è pochissimo più dietro aspettate ora va un po' di volume a questo avevamo visto era lui sì adesso facciamo la prova non ridere seria senza video forse sentite delle urli ma questo qui non va a ridere quello che prima sei un attimo ragazzi scusate mi devono arrivare i messaggi proprio adesso che sto registrando ragazzi in un giorno comunque stavo dicendo in un giorno non mi è arrivato cazzo adesso sto a registrare di sera mi ci sono messo apposta alle 10 a registrare sto a registrare le 10 di sera mi devo però per le scatolari guardiamo ragazzi un gatto sia messe lo volevo prendere anche io un cucholo di gatto ma che bello poveretto sembra triste ma che cacchio ma che cacchio che fico poveretto ma perché caccio il padrone allora ragazzi ma perché caccio il padrone deve fare queste cazzate se lui vuole prendere l'aria fuori La prende Non gli deve rompere il cazzo il padrone Ragazzi sono andato a prendere mio fratello Fermate Fermate con la serie Per vedere Se faceremo una sfida Mi raccomando arriviamo a 5 like Allora Dietro ho spunto la Juve Chi ti fa Juve Lasci un bel like Mi raccomando signori Lasci un like Chi non ti fa Juve invece Vedete qui dove sto con questa rotella Ecco Condividete Con Cristian Condividete il video Ma è proprio scarso questo Condividete il video Comunque ragazzi Detto ciò partiamo Perché cazzo ho fatto così Povero amico E provando a vedere Tu sei a uno Guarda amico Uno pari Che sono pari Ah si Il cane pastore L'ho visto oggi L'ho visto questo È smirato Questo l'avevo visto signori! Praticamente c'è il gatto cicciotto che quello magro lo picchia Ah si qui che lo tira quando scodinzola, lo tira via, guarda, qui salta e non ci arriva, fermate con Questa serie ho detto! La giacchia! Vai via eh se non lo vedi! L'avevo visto questo? Quanto vuoi! Questo cicciotto l'ho buttato io e subito! Pura azzurro! Ti stai azzurro! Oh purito! Ragazzi quando manco a finire! Due minuti signori a finire! Allora! Allora! E non solo mettere dentro la voglia! Dio questo sembra il gatto nostro! Un secondo ragazzi che vi vado a prendere il nostro gatto! Allora ragazzi un secondo ecco! Ditemi! Ecco! Sentirete già! Se non sono uguali! Guardate che bel cucciolo di gatto! Si chiama Black e ha un anno! Salutatelo che adesso va lì tutto pieno di pelle! Infatti io non so se lo vedete ma spolazzo qualche pelle! Cioè ragazzi guardate i miei braccialetti! Conque! Eh! Vanno dalle ciance e ripartiamo! Questo è qua c'è qua! Eh questo è Black! Oh è scappato un po' fatto! Oddio santo! Gli hanno legato qualcosa alla coda con la zampa tipo? Mi cerca di prenderlo lui! I miei braccialetti che vuoiassarli! Si vuoi fare! Ma che pur! L'appuraccio! Non va a fraschi! Quando manca... Ancora... Mamma mia! Lo fa correre via! Si caga sotto! come si fa a fare d'aprire un anno quando si sa come si fa a fare d'ambrogio dovremmo provarlo anche con black questa cosa ragazzi sapete modo l'acqua potato questa cazzo questo ma che cazzo era la tegliene ferma con la segna questa la prende tutta tutta ma che vai tu guarda qui signori no non devi niente dove vieni qua allora fammi porto oddio che carina sembra io oh cacchio come cazzarola varmanita carina oh caccio ah ragazzi ragazzi io direi che per oggi possiamo anche concludere qui tu che vuoi dire niente iscrivetevi al canale mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale e al suo canale di tiktok al mio tiktok e lasciate like a questo video mi raccomando ragazzi arriviamo spolliciato appunto non posso arriviamo a cinque like e farò un altro video prova a non ridere challenge impossible proprio di quelli impossibili da stare serio c'è tipo un giorno sto incazzato e li fa girare la giornata che ecco che ti fa noi un saluto mi raccomando andate a guardare nel link in descrizione attraverso il link in descrizione il video che ho fatto provando a ridere challenge e un saluto da parte mia e da Cristian ciao ciao ciao